La battipagliese nel weekend viene umiliata 7-2 dalla Virtus Avellino, a salvezza però raggiunta nell'ultima gara di campionato, immediata la strigliata del presidente Mario Pumpo. Al pesante K.O. sono arrivate anche le dimissioni del direttore sportivo Carmine Goriglia, che lascia per motivi personali. Mi dimetto da di essere della battipagliese squadra che amo, la squadra della mia città e di cui faccio il tifo da quando ero bambino. Queste le poche righe rilasciate attraverso una nota stampa. Grazie.